Dattemi una zeta, costarà la A, ma senza la I, la N, che farà? La E come la presi, te raggiungerà i tipi, poi la E come da tutto, dai Nessi. Dattemi una zeta, costarà la A, ma senza la I, la N, che farà? E come la presi, te raggiungerà i tipi, poi la E come da tutto, dai Nessi. Ci sono cose nella vita che vorresti già studiare, mentre altre non le imparerai mai. Ci sono piccole canaglie che traranno nel tuo cuore, professori che non capirai mai. Saranno storie d'amore, quaderni dodiare, di imparare o baciare, regole da applicare. E l'accademia che rapisce il cuore! La zeta di uno dai no, la A di chi non chiamerà, la I di quelli preparato. La N che non ci sarà, la E per D è come te, i t di tutti quelli che, la I di I dice che sei, dai Nessi che mai scorderai. Dattemi una zeta, costarà la A, ma senza la I, la N, che farà? La E come la presi, te raggiungerà i tipi, poi la E come da tutto, dai Nessi. Dattemi una zeta, costarà la A, ma senza la I, la N, che farà? E come la presi, te raggiungerà i tipi, poi la E come da tutto, dai Nessi. La sei. Dannazione, è troppo difficile da comprendere. La differenza tra Broadway Musical e Opera Musical. Io non ci vedo nessuna differenza. Per me si tratta sempre di musical. Non guardare me! Io sono solo del primo anno. Magari potremmo fare una ricerca su internet. Già fatto. Risposta del signor Google. Spiacente, Serena, ma non so come aiutarti. Vediamo, facciamo insieme. Potresti tenermelo? Più lontano? Ancora di più? Niente da fare. Non ho con me gli occhiali per vedere da vicino. Ma perché non chiedi a lui? Dicono che sia il primo della classe in storia del musical. Già! Mariuccio! Tesorino! Scusa se interrompe il tuo croceverba. Mi daresti una mano con la storia del musical. Ti prego! Vediamo. 33 verticale, 6 lettere. A buon rendere! Facile! 50 euro! Sei spregevole! Troppo difficile comprendere le ragazze. Vabbè! 35 orizzontale, la bella cantata da Marco Masini. Doremi, 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 non ce la farò mai. Sei ancora qui. È un disastro! Mi arrendo. Tremilla, c'è sempre una soluzione. Se oggi non va, domani il sole apre. Un altro giorno meglio andrà. Se il sole non c'è, domani aspetterai che faccia notte. Per sogno arriverà anche per te, ma tu dovrai aspettar, perché ogni sogno è così, ti cambierà. Quel giorno sarà, domani, e canterai per tutto il tempo che verrà. Domani, domani, aspetta domani, e il sogno verrà da te. Vedi, il segreto è non pensarci. Tutti abbiamo dei limiti, ma nessuno ci vieta di provarci. È facile per te, ma io sento di non essere portata per l'arte. Forse dovevo ascoltare i consigli dei miei vecchi compagni di classe. No, mai! Nessuno può decidere per te. Tutti vorrebbero diventare grandi artisti, ma nessuno è disposto a faticare. Il nostro è un duro lavoro. Che spesso ci porta a rimanere da soli. Ma noi non siamo mai da soli! Vedi che va già meglio? Non sei mai sola se ti ristretti il tuo sogno. Hai ragione, e domani dimostrerò a tutti di che basta sono fatta. Prenderò fiato e riempirò la stanza di emozioni. Brava! Adesso è la luce giusta. Devi solo avere pazienza. Anch'io mi sono scoraggiata più volte, ma nulla può spegnere la luce di un grande sogno. Grazie Franci, sei una buona amica. Adesso mi sento più sicura. È bello sapere che l'amicizia è condivisione e non invidia. Sì, ma condividiamo solo i nostri sogni, prima che l'emozione si trasformi in un grande lacrimone. Sì, ma condividiamo solo i nostri sogni, prima che l'emozione si trasformi in un grande lacrimone. Domani, 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 il giorno è domani e io lo vivrò con te. Sì, ma condividiamo solo i nostri sogni. Sì, ma condividiamo solo i nostri sogni. Perdite umane, zero. Riprendete il fuoco! Buongiorno ragazzi! Comunicazione di servizio. Occorre che troviate del tempo per scrivere i vostri nuovi monologhi. Gli esami si avvicinano e sapete che gli insegnanti sono intransigenti quando si trattano i temi, esami ed emozioni. Quindi vi consiglio di iniziare a depositare qualcosa perché ad oggi nella vostra cassetta non ho trovato nulla. Consiglio! Attivate le idee! Buona scrittura! Ho capito, anche oggi ho parlato da sola. Fosse facile, come se i sentimenti avessero un interruttore. Eccomi, tasto power, io ti schiaccio e tu riscargli un'iniezione di emozione allo stato puro. Oh, potete dirmi quello che volete, ma io non ci riesco. Preferisco seguire le istruzioni di un testo piuttosto che pensare e scrivere. Ad essere sinceri? Per me scrivere è come liberarmi da tutto quello che ho dentro. Forse per qualcuno quanto... Quanto... Quanto sei strana. Stai tranquilla che non ti serve un foglio e una penna. È già ben visibile ad occhio nudo. Vedi, Sami, abbiamo provato più volte a farti capire cosa significa gruppo, ma tu... Niente. Stai sempre per fatti tuoi. Già. È come se tu vivessi... Di vita propria. Mangi da sola. Studi da sola. Entri a scuola. Da sola. Non passi i compiti nemmeno sotto supplica. Per non parlare del fatto che quando tutti siamo davanti alla scuola per protestare per i nostri diritti, tu sei sempre assente. Nessuno ti vede arrivare. Ma magicamente basta guardare dalla finestra della classe per vedere la tua bellissima testolina già seduta in sala teatro, pronta alla primazione di secchioneria. Guarda che questa si chiama sommossa. E non è attribuibile al gruppo, ma al branco. Manifestare per una cosa che non va. Non si fa il solitudine. Uno si sveglia e pensa Oggi sciopero. Ci vogliono voci forti. E i minori non hanno voce in capitolo. Quindi, Samantha, non è intorto. Così è deciso, l'udienza è tolta. Ma che diavoleria stai dicendo? Mia madre racconta che nel 1968 furono gli studenti ad organizzare una rivolta e a cambiare la storia della scuola. Di certo non sono stati accompagnati dai genitori per rivoluzionare tutto. Guarda che erano universitari. E quindi maggiorenni. Sciocchina. Dettagli! Dettagli! Sono solo dettagli! Spostatevi via! Sciocca! Calma! Ma di che cosa state parlando? Vi rendete conto della stupidità delle vostre parole? E di quanto quelle parole possono fare male quando siete tutti insieme? In branco, come ha detto Alice. Ma di quali diritti state parlando? Noi studiamo arte. L'arte è libertà. È parola. Verbo. Ci hanno solo chiesto di scrivere i nostri sentimenti. Non di scendere in piazza per la pace nel mondo. Esatto. Non siete scesi in piazza nemmeno per cose più importanti di questa. Come quando vi avevo invitato a fare sciopero perché i termosifoni non funzionavano. Quella sì che era una grande opportunità per far valere i nostri diritti. Il gas è un diritto! Non è mia, l'ho sentito a dire. Peccato che era il 10 di giugno. È fuori, c'erano 40 gradi. E vabbè, io avevo freddo. Mi fate accapponare la pelle. Per fortuna io parlo solo con me stessa. E anche il foglio mi capirebbe. Aspetta, aspetta, aspetta! Ragazzi, ho avuto un'idea. Parliamone con i nostri genitori. Magari loro riusciranno a parlare con la signorina Esmeralda e a convincerla a usare dei testi tradizionali. Avevo 10 anni. Io avevo 10 anni quando mia madre e mio padre sono morti in un terribile incendio. Io ero a casa di mia nonna che, poveretta, è morta una settimana dopo dal dolore. E così sono rimasta orfana. Ma per me niente istituto, niente parenti, nulla. Il mio dolore è rimasto tra me e il mio quaderno. Tutti mi chiedevano dove fossero i miei genitori. Io rispondevo vagamente. Poi ho conosciuto la Bibbia e ho cominciato a trovare le risposte alle mie domande. Ma l'arte mi ha dato la parola e la penna il coraggio di raccontarle. Questo significa che tutti possiamo raccontare qualcosa. Forza, ragazzi! Usiamo il nostro tempo per rendere tutto speciale. Speciale. Ah! E ricordate che tra qualche giorno è nello passale! L'hai letto un biai? Grazie! Sì! Non è mai il tempo che conta nei sentimenti Non puoi pensare che basti per ridere di più Se il tuo Natale è diverso dai miei pensieri Scriviamo un'altra storia che sa di fantasia I sogni, i ricordi, sono stimoli di emozioni Domande, risposte vedrai, non chiederai Ma se noi scegliamo che oggi è un giorno migliore Nasce un testo che una fiaba sarà Storie d'amore Scelte da, da sole Scelte da, da cuore Il Natale è per noi Un gesto d'amore Mi sento d'amore Non posso rendere mai il peso dei ricordi E mi affrontare ogni giorno e scrivere magia Se un sentimento in comune ci manda a cuore feste Soirei il Natale che ci aiuterà Io parlerò di lei Io scriverò di lui Io dei miei chi sei E dei miei chi sarò E questo pensiero che servirà per noi Il Natale è la storia che farà per noi Scelte da, da amore Scelte da, da sole Scelte da, da cuore Scelte da, da amore Scelte da, da amore Un gesto d'amore Un segno d'amore Un segno d'amore Grazie a tutti. 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 No, 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 se per la nazione il martello vuoi lanciare, tu per tanto tempo nel cerchio devi star. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.